Rimedi a base di miele per migliorare la salute Il miele è uno degli ingredienti naturali che vengono apprezzati fin dallantichità per le loro molteplici applicazioni culinarie e medicinali. Non a caso esistono numerosi rimedi a base di miele. Il miele è un alimento prodotto dalle api tramite la trasformazione del nettare dei fiori e, sebbene sia destinata allalimentazione dellalveare, è stato usato per secoli a beneficio delluomo. Gli vengono attribuite proprietà antibiotiche, antivirali e antinfiammatorie che, una volta assimilate dallorganismo, possono prevenire e curare diverse malattie. Grazie alla sua ricchezza di enzimi e composti antiossidanti, è ideale per migliorare la digestione e proteggere le cellule dagli effetti delle tossine e dei radicali liberi. Il miele è un buon integratore per accelerare la guarigione in caso di malattie con il miele. Vi invitiamo ad aggiungerlo insieme ad altri ingredienti naturali in rimedi per facilitare il trattamento di diversi problemi di salute. Vi interessa? Non esitate a provare! Rimedi a base di miele. Rafforzare il sistema immunitario. Grazie alle sue proprietà antibiotiche e antivirali, il miele è un buon integratore per accelerare la guarigione in caso di malattie conseguenza di un sistema immunitario debole. I suoi nutrienti aumentano la risposta dei meccanismi di difesa del corpo facilitando il trattamento dellinfluenza, del raffreddore e dei problemi urinari. Ingredienti. 1 barra 2 tazza di miele, 167 g, succo di un limone 1 cucchiaio di scorza di limone, 10 g. Preparazione. Versate il miele in un contenitore resistente al calore e riscaldatello a bagnomaria per 5 minuti. Mentre si scalda, aggiungete il succo di limone e la sua scorza. Rimuovete il tutto con un utensile di legno e lasciate riposare a temperatura ambiente. Conservate il prodotto in un barattolo ermetico. Consumate uno cucchiaio di questo rimedio a digiuno, da solo o diluito in acqua tiepida. In caso di infezioni, assumetelo fino a tre volte al giorno. Rimedio per la digestione. Avete infiammazione e dolore addominale? La vostra digestione è pesante? Se è così, potete provare questo interessante rimedio a base di miele e radici di zenzero. Entrambi gli ingredienti si distinguono per le loro proprietà digestive e antinfiammatorie, in grado di accelerare la guarigione da vari disturbi gastrici. Ingredienti. 1 tazza di acqua 1 cucchiaino di zenzero grattugiato, 5 g, 2 cucchiai di miele, 50 g. Preparazione. Fate bollire una tazza di acqua e, quando giunge a ebollizione, aggiungete lo zenzero grattugiato. Lasciate riposare la bevanda per 10 minuti, filtratela e aggiungete il miele. Bevete una tazza di infuso al primo sentore di fastidio allo stomaco. Prendetelo due volte al giorno. Rimedio per il mal di testa. Per via delle sue proprietà rilassanti e analgesiche, il miele può essere utile per ridurre i mal di testa che interrompono le nostre giornate. In questo rimedio potenzieremo le proprietà del miele con i chiodi di garofano, un ingrediente che migliora la circolazione e riduce linfiammazione. Ingredienti. 1 tazza di miele, 335 g, 10 chiodi di garofano 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Scaldate il miele a bagno maria e aggiungete i chiodi di garofano. Versate il prodotto in un contenitore ermetico e lasciate riposare per 24 o 48 ore. Dopo questo tempo, diluite due cucchiai di rimedio in una tazza di acqua calda. Ingerite la preparazione a base di miele quando avete mal di testa o dolori muscolari. Consumatelo due volte al giorno se lo ritenete necessario. Rimedio per disintossicare il corpo. Gli enzimi e gli antiossidanti del miele sono utili per favorire leliminazione delle tossine che si accumulano nel sangue. Ecco perché tra i rimedi a base di miele troviamo questo, ideale per disintossicare il corpo. Questi composti, uniti agli acidi naturali dell'aceto di mele, ottimizzano la funzione degli organi escretori e riducono il rischio di danno cellulare. Ingredienti. 1 tazza di acqua 1 cucchiaio di miele 2 cucchiaini di aceto di mele 10 ml. Preparazione. Scaldate una tazza d'acqua e aggiungete il cucchiaio di miele e quello di aceto. Mescolate bene gli ingredienti finché non sono completamente diluiti. Bevete la bevanda a digiuno, almeno per due settimane di fila. Rimedio per i crampi mestruali. Il potere rilassante e antinfiammatorio del miele può essere aumentato con le proprietà antispasmodiche della cannella per ottenere un rimedio alternativo contro i fastidiosi crampi mestruali. Ingredienti. 1 tazza di acqua 250 ml ½ cucchiaio di cannella in polvere 5 g 1 cucchiaio di miele 25 g. Preparazione. Fate bollire una tazza di acqua e aggiungete la cannella in polvere e il cucchiaio di miele. Bevete linfuso caldo, iniziando da due o tre giorni prima del periodo mestruale. Tenete presente che, per ottenere buoni risultati con questi rimedi a base di miele, dovete assicurarvi di comprare miele biologico. Sebbene alcuni mieli industriali abbiano un sapore simile, la loro qualità nutrizionale e le loro proprietà sono ridotte. 8 9 10 11 12 12 12 13 Grazie a tutti.